No amici, è notizia di poco fa che ho letto sui social che in pratica molti stanno rendendo i Vision Pro di Apple che hanno provato per 15 giorni, dopo 15 giorni secondo le politiche di reso di tutti i prodotti elettronici o di altro genere stanno rendendo il Vision Pro, molti magari l'hanno acquistato per fare video sui social, per acchiappare click e quindi hanno sfruttato la situazione e adesso lo stanno rendendo, altri invece lamentano che magari sia un po' sbilanciato sul davanti e causi mal di testa o altri problemi a mio parere secondo me magari non potevano permetterselo e si sono resi conti magari che non serviva nemmeno a granché cosa che dipende dagli utilizzi che uno ne fa, giustamente un Visore Pro di 3500 dollari o 4000 dollari non può servire a tutti magari chi ha bisogno di lavorarci potrebbe essere un'ottima cosa questo era quello che ho letto poco fa sui social